Il primo giugno è partita la rassegna nicosiana, un connubio tra cultura e solidarietà, il cui ricavato andrà in favore della lotta alla SLA. Il primo evento in cartello è stato il workshop Parla come posti, uno storytelling ai tempi di Instagram a cura di Federica Zacchia, tenuto presso l'aula consigliare del Palazzo Comunale di Nicosia ed articolato in un paio di incontri sulla scrittura digital. Federica Zacchia è un'attrice, ha partecipato in produzioni di serie e di films ed attualmente è la digital content creator dell'agenzia YourMood. Un paio di incontri sulla scrittura digital, quindi la scrittura e il modo di comunicare di Instagram, nello specifico. Diciamo che è un social super utilizzato, è un modo accessibile a tutti di comunicare, uno strumento di comunicazione che come ogni strumento di comunicazione ha le sue regole, ha le sue caratteristiche principali e quindi è anche interessante capire come poterle sfruttare al modo giusto e come poterlo utilizzare. Perché comunque la cosa bella di Instagram, penso, è che sia accessibile a tutti e quindi tutti hanno la possibilità in qualche modo di dire la loro su questo canale. Nasce secondo me la comunicazione digital con Facebook sicuramente, però poi con il tempo si è modulato ed è cambiata la rotta verso Instagram che è vero che all'inizio parte dai più giovani però poi non è assolutamente vero che questa cosa rimane targettizzata in questo senso perché anzi, veramente ripeto, la cosa bella è che è aperto a 360 gradi su tutte le persone, cioè paradossalmente anche mia madre che non ha mai usato il telefono può avere un suo canale, può parlare, può dire la sua in vari modi.